Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, curl concentrato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua dei curl semplici. Non oscillare con la schiena, per aiutarti tieni l'addome ben contratto. Non sollevare le spalle, mantenile sempre basse e rilassate per concentrare lo sforzo nei bicipiti. Esegui l'esercizio lentamente nella fase di discesa per aumentare l'efficacia dell'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Rai attenzione a non distendere completamente le braccia per non causare problemi alle articolazioni. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Estensioni posteriori i tricipiti in piedi. 3 2 Via! Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate. Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Stop! Prossimo esercizio. Curl a martello pulsato. 3 2 1 Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non oscillare con la schiena. Per aiutarti, tieni l'addome ben contratto. Non sollevare le spalle. Mantieni le sempre basse e rilassate per concentrare lo sforzo nei bicipiti. Non piegare i polsi durante il movimento. Tieni le mani in linea con gli avambracci. 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Estensioni posteriori tricipiti pulsate. 3 2 1 Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Durante la distensione, non muovere i gomiti. Tieni i rifermi sempre adecenti al busto. Non distendere le gambe. Devono essere sempre leggermente flesse. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Alzate laterali e pulsate. 3 2 1 Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate. Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Stretching tricipiti. Via! Non esagerare con la spinta. Fermati se senti dolore. 5 4 3 2 1 Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena quando porti dietro il braccio. 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Stretching avambracci e bicipiti. Via! Le mani sono all'altezza delle spalle. 5 4 3 2 1 Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 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 Grazie a tutti.